Musica Giorgia Meloni nel primo consiglio dei ministri sprona i suoi affari di più e bene sarà una manovra con i piedi per terra assicurato la Premier per l'opposizione mancano non solo i soldi ma anche le idee Michele Emiliano ospite della piazza Ceglie Messabic ha parlato dello stato di salute del PD in Italia e in Puglia spazio di droga tra Bari e Bisceglie e 5 persone finiscono in carcere con altri 10 arresti ai domiciliari e un minore in comunità a margine l'operazione dei carabinieri denominata Restart Benvenuti a questa edizione interregionale del telegiornale di Antenna Sud che apriamo con la pagina politica nazionale lo dicevamo nei titoli si è svolta la prima seduta del consiglio dei ministri con l'intervento della Premier Meloni che ha tracciato il percorso da seguire vediamo il servizio del nostro corrispondente da Roma Francesco Manigrasso Giorgia Meloni nel primo CDM dopo la pausa estiva detta la rotta ai suoi ministri a partire da quella che sarà la legge di bilancio le priorità da seguire sono chiare, supportare la crescita, aiutare le fasce più deboli, dare slancio a chi produce e mettere soldi in tasca a famiglie e imprese rendendo strutturale il taglio del cuneo fiscale dobbiamo tenere i piedi a terra, ha sottolineato la Premier, e usare le risorse disponibili con la massima attenzione non ci sono margini di errore, coperta e coperture sono corte noi cercheremo di rispettare gli obiettivi con un principio di responsabilità tenendo conto delle circostanze e dei fattori rilevanti come li chiamano in Europa che si sono verificati, che si stanno verificando nel 2023 e di cui daremo puntualmente conto in occasione della NATEF che presenteremo in Parlamento a settembre Fratelli d'Italia ha preso impegni precisi in campagna elettorale sostenere la crescita, dare slancio alle imprese per creare lavoro aiutare le famiglie e le fasce più deboli è quello che faremo nella prossima legge di bilancio senza mettere in pericolo i conti pubblici ma portando quel cambiamento che serve agli italiani l'opposizione non fa sconti per Giuseppe Conte la Premier sta costruendo il castello di carte con cui giustificherà una manovra improntata all'I0, senza nulla per lavoratori e imprese c'è bisogno di 30 miliardi il governo ne ha 9, tuone il capogruppo del PD al Senato Francesco Boccia dal Consiglio dei Ministri non c'è stato nessun primo provvedimento significa che non hanno le idee chiare praticamente i soldi vanno a chi ha già soldi mentre vengono lasciati completamente soli più deboli e aumenta quindi il divario tra chi non arriva a fine mese e chi invece viene supportato ma ha già dei soldi e già può andare avanti bene se continua su questa strada il governo penso che non farà bene farà malissimo Andiamo a Ceglia Messapic adesso dove si è conclusa la tre giorni della piazza con la calata di Big c'era il governatore Michele Emiliano nell'ultima serata ospite del direttore di Affari Italiani ha parlato dello stato di salute del Partito Democratico in Italia in Puglia sentiamo Anna Sabonaro Colpa forse delle condizioni meteo incerte sotto tono l'ultima serata della piazza Cermes Politica organizzata da Affari Italiani a Ceglia Messapica ospiti sempre di grande spessore dall'ex magistrato Pier Camillo Davigo al presidente della regione Puglia Michele Emiliano passando per Boccia del PD e Crippa della Lega il governatore ha parlato del caso PNRR ma anche della situazione del PD in particolare a livello nazionale Condividiamo la maggioranza di governo con il Movimento 5 Stelle e quindi non abbiamo un PD travolgente in realtà non lo abbiamo quasi da nessuna parte un PD travolgente quindi i sondaggi sulla fiducia sono importantissimi Presidente ha detto che il PD non è travolgente in questo momento ma siete rassegnati o cosa intendete fare? Io no, infatti in Puglia facciamo vincere il PD con una serie di iniziative politiche che sono sia di contenuto ma anche di strategia e di alleanze e lo abbiamo reso travolgente Restiamo a Ceglia Messapica perché come dicevamo si è chiusa questa importante tre giorni dedicata alla politica, alla stretta attualità e ai temi che saranno affrontati alla ripresa della politica nazionale locale da settembre un dibattito su temi di strettissima attualità dunque il bilancio della piazza di Ceglia Messapica affidato ad Anna Saponaro che ha seguito le tre serate per Antena Sud Titoli di coda per l'edizione 2023 della piazza confronto politico organizzato a Ceglia Messapica ad affaritaliani.it tre giorni intensi che hanno visto sul palco ministri e nomi di maggioranza e opposizione ma non solo in vista della ripresa estiva si è parlato di salario minimo potere d'acquisto degli italiani cuneo fiscale, caro carburanti taglio dei fondi al PNRR che terrorizza le amministrazioni comunali qualcuno si aspettava risposte certe come i cittadini che hanno assistito al dibattito sempre al di là delle transenne sempre senza prendere parola qualcun altro, l'opposizione ha colto la palla al balzo per rilasciare dichiarazioni con sottotitolo te l'avevo detto io per denunciare fallimenti veri o presunti dei primi dieci mesi del governo Meloni di fatto a proposito di carburanti i prezzi erano e restano proibitivi le accise c'erano e nessuno le toglie la sanità è malata e non sappiamo se guarirà quella pubblica ovviamente perché pensare di accedere al pronto soccorso sborsando 150 euro come accade in Lombardia parola di Misiani del PD è impensabile e poi la sanità pubblica secondo il sottosegretario Gemmato sta a cuore al ministro Schillaci e a proposito di Gemmato sono state le sue dichiarazioni a fare inalberare il governatore Michele Emiliano diciassettesimo e in discesa nella classifica di gradimento dei presidenti di regione stilata da Lab 21-01 affermare che in Puglia ci sia clientelismo perché per un esame diagnostico devi farti raccomandare dal potente di turno in effetti è pesantuccio e se fosse vero la questione dovrebbe essere approfondita nelle sedi opportune come suggerisce Emiliano insomma alla fine della giostra non crediamo certo che sia stata una passerella ma per esserne certi aspettiamo settembre e i fatti quelli annunciati e promessi in piazza e adesso apriamo l'ampia pagina dedicata alla cronaca partendo dall'operazione dei carabinieri nella BAT spaccio di droga tra Bari e Bisceglie 5 persone in carcere altre 10 ed abiciliari e un minore in comunità a margine dell'operazione denominata Restart oggi conferenza stampa seguita per Antenna Sud da Maria Fiorella un'operazione importante che ha smantellato una vera e propria rete di spaccio sul territorio attività che avveniva con metodi assolutamente spregiudicati spregiudicati e del tutto originali per depistare eventuali intercettazioni telefoniche 4 lasagne e 3 teglie di pasta al forno erano le commesse che ricevevano gli spacciatori la cucina a sede a Bari il delivery si diramava all'interno del centro storico di Bisceglie e Trani attraverso fattorini che potevano raggiungere anche la casa circondariale attraverso l'utilizzo di dispositivi telefonici che venivano introdotti all'interno delle strutture carcerarie superando persino le più stringenti cautele da parte degli agenti della polizia penitenziaria un'organizzazione criminale smantellata all'alba da 100 militari con l'ausilio di unità cinofile le misure cautelari sono state emesse nei confronti di 16 indagati tra cui un minorenne all'epoca dei fatti 5 in carcere e 10 agli arresti domiciliari il minore è stato affidato ad una comunità per tutti l'accusa è a vario titolo di cessione vendita distribuzione e commercializzazione di droga di cui si approvvigionavano nel capoluogo pugliese nella zona del nord barese il clan Capriati rappresenti ancora oggi la principale fonte di distribuzione di approvvigionamento di sostanze stupefacenti di qualsivoglia tipologia gli arresti sono stati disposti al termine dell'indagine denominata Restart condotta dai militari della tenenza di Biceglia a partire dal gennaio 2023 e adesso vi proponiamo un servizio che ci aggiorna sulle indagini relative all'efferato omicidio avvenuto a Foggia nelle scorse ore ha perso la vita una commerciante di 72 anni in seguito di un tentativo di rapina sentiamo Antonella Davola proseguono serrate le indagini dei carabinieri della compagnia di Foggia per stringere il cerchio intorno all'autore dell'efferato omicidio di Francesca Marasco la 72enne uccisa con numerose coltellate all'interno della sua tabaccheria di via Marchese De Rosa probabilmente a seguito di un tentativo di rapina al vaglio degli investigatori le immagini delle poche telecamere di videosorveglianza presenti in zona al momento non ci sono testimoni che avrebbero visto o sentito qualcosa a ritrovare il cadavere della donna è stato un cliente dell'attività che ha allertato il 112 la vittima ieri mattina aveva riaperto l'attività dopo la pausa estiva e molto probabilmente quando il malintenzionato è entrato nell'esercizio commerciale ha provato ad opporre resistenza scatenando la sua furia omicida sono almeno tre i colpi inferti dall'assassino con un coltello da cucina ritrovato a pochi metri di distanza la rivendita tabacchi è stata posta sotto sequestro davanti alla Sara Cinesca un viavai di persone che depongono fiori e lasciano biglietti di affetto per un ultimo saluto alla donna ben voluta da tutti per il suo carattere mite e gentile la foggia per bene piange la morte di Franca vittima innocente del cancro che attanaglia e divora la città nessuno dovrebbe morire per una mano assassina si legge tra i messaggi e chiudiamo la nostra pagina di cronaca del TG Interregionale andando a Bari per un altro episodio molto grave che si è verificato all'interno dell'ospedale di Venere in via Liuzzi nel capologo regionale è stato esploso anche un colpo di arma da fuoco di pistola in aria durante un inseguimento vediamo che cosa è successo nel servizio che segue si torna a sparare a Carbonara più precisamente all'ospedale di Venere dove intorno a mezzogiorno si sono vissuti attimi di paura il colpo è partito dalla volante della polizia durante un inseguimento tutto è avvenuto a seguito della segnalazione per la presenza di un'auto in transito risultata rubata nei giorni scorsi la polizia ha intimato l'alta al presunto ladro che era la guida del mezzo l'uomo non si è fermato l'auto ha proseguito la sua corsa rifugiandosi nel parcheggio dell'ospedale dove la polizia ha sparato un colpo di avvertimento che ha allarmato i tanti presenti il presunto ladro ha quindi abbandonato la macchina per diliguarsi a piedi mentre il poliziotto è stato medicato al pronto soccorso del di Venere per alcune escoriazioni che si è procurato tentando di bloccare l'auto per identificare l'autore e la dinamica sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza del nosocomio sul posto anche la scientifica per i rilievi un clima non certo tranquillo venerdì scorso sempre a Carbonara in piazza Umberto tre colpi esplosi in pieno centro mentre la gente stava affluendo per un concerto del cartellone estivo degli eventi del comune Cambiamo argomento mettiamo da parte la cronaca andiamo in Lucania a Potenza nella sala del Consiglio Provinciale si è svolta la conferenza stampa di presentazione della candidatura di Maratea a Capitale Italiana della Cultura ce ne parla il nostro corrispondente Francesco Cutro Maratea Capitale Italiana della Cultura è una città che scommette sulla pluralità sulla pluralità del suo territorio e delle ragioni che sostengono la scelta di candidarsi a un così ambizioso titolo di rappresentatività Maratea come hub costiero di un piano strategico che si muove verso la Lucania interna trova poi un punto di approdo e sinergia nella città sorella di Moliterno che ha scelto di ritirare la propria candidatura per scommettere su una visione di più ampio respiro e lungo termine Maratea con i suoi 35 secoli di storia punta a rivalorizzare il suo percorso consentendo di essere non solo l'approdo del Mediterraneo ma anche la porta di accesso per lo sviluppo di Maratea e del territorio partendo da Maratea si possono creare occasioni di sviluppo dell'intera Basilicata ma anche dalla Lucania perché sono tantissimi i comuni che potranno irradiare di questo progresso culturale che parte da Maratea valorizzando i tanti territori della Lucania la città si candida a questo ambizioso titolo di rappresentatività in ambito nazionale per poter in qualche modo immaginare e programmare una visione di sviluppo futuro attrazione culturale per poter valorizzare il proprio patrimonio e poter lanciare nell'avvenire nel futuro appunto il suo millenario patrimonio storico e culturale Maratea però non si candida soltanto per se stessa si impone come capofila di un progetto di area vasta che vede un punto di approdo nelle aree interne nella città di Moliterno porta di accesso all'Alta Val d'Agri così come Maratea e la porta di accesso alla Basilicata Tirrenica dal Mediterraneo schiarita per lo svolgimento dei giochi del Mediterraneo Taranto 2026 si è svolto infatti in un clima di cordiale collaborazione l'incontro tra il commissario dei giochi Ferrarese il sindaco di Taranto Melucci si accelera su tre progetti principali il 7 settembre riunione per lo stadio Erasmo Iacovone sentiamo Leo Spalluto un clima di ritrovata collaborazione in vista dei giochi del Mediterraneo 2026 si è svolto all'insegna della cordialità l'incontro tra il commissario dei giochi Massimo Ferrarese e il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci accompagnati dai rispettivi entourage tecnici commissario e primo cittadino hanno parlato per oltre due ore negli uffici di Ferrarese presso la Camera di Commercio significativi e confermati da entrambe le parti i passi in avanti alcune opere come il campo di Talsano il pala Ricciardi e la palestra di Paolo VI stanno per passare alla fase esecutiva da oggi si accelera la marcia per le tre opere principali la piscina di Torre d'Aiala il centro nautico alla stazione Torpediniere e lo stadio Iacovone che sarà il centro di una riunione il 7 settembre resta uno spiraglio per il rifacimento completo chiesto dal comune ma Ferrarese concede maggiori chance alla ristrutturazione su queste tre opere principali entro quanto secondo lei bisogna necessariamente chiudere il cerchio e prendere le decisioni definitive? ma queste opere devono essere necessariamente appaltate entro massimo marzo 2024 per farlo abbiamo bisogno dei progetti dei PFTE dei progetti poi esecutivi abbiamo bisogno di tutti i pareri abbiamo bisogno di conferenze di servizi abbiamo bisogno di appaltarli abbiamo bisogno che non ci siano che non ci siano ricorsi tar consiglio di Stato se dovessimo continuare così a lavorare così sicuramente si potrà fare tanta tanta strategia anche il sindaco Melucci sottolinea si volta pagina da oggi incomincia insomma un percorso nuovo positivo per i giochi e per la comunità sulla questione stadio vi devo sottolineare che noi siamo fermamente convinti ancora che ci sia lo spazio tecnico amministrativo per procedere con lo stadio nuovo parliamo adesso di agricoltura l'abbandono dei campi in particolare occorre lottare contro questo fenomeno e quanto afferma Azione Puglia il partito spiega illustra le sue strategie sentiamo Gianni Canalir occorre lottare contro l'abbandono dei campi ma soprattutto trasformare la xylella da disgrazia in grazia e quanto sostengono il consigliere e commissario regionale di azione Fabiano Mati i consiglieri regionali Sergio Clemente e Ruggero Mennea e la responsabile regionale agricoltura di azione Anna Rita Picci per azione drammatica la situazione dell'abbandono dei campi specie nel Salento occorre sostenere l'impianto di ulivi resistenti ma anche varietà innovative grazie alla genetica per gli esponenti politici di azione c'è bisogno di accogliere ogni forma di innovazione tecnologica sul delicato punto del paesaggio fonte di accese e controversie bisogna difendere con forza tutto quello che è ancora salvabile l'attuale paesaggio dicono da azione è andato distrutto frutto di continue trasformazioni genetiche con il vecchio metodo sapiensare degli innesti ma anche di avanzamenti tecnologici meno repentini rispetto a quelli attuali realizzare questo programma concludono i rappresentanti di azione non è solo compito del mercato ma anche degli amministratori pubblici attraverso opportune modifiche alle normative urbanistico-paesagistiche montiamo pagina non sono mancati momenti di tensione questa mattina a Taranto durante il consiglio comunale monotematico sugli scottanti temi della mitilicoltura ionica sentiamo quello che ha da raccontarci su questo fronte Leo Spalluto che ha chiesto che ha chiesto di anticipare al primo punto l'ordine del giorno di maggioranza con Castronovi primo firmatario è nata la bagarra tutte le opposizioni hanno denunciato una prova di forza antidemocratica e sono uscite dall'aula per protesta con grida e accuse i consiglieri comunali non hanno un minimo di rispetto per le opposizioni è chiaro che ci vogliono tappare la bocca è chiaro che non vogliono dare risposte è chiaro che un sindaco assente la minoranza è poi rientrata in assise solo per ascoltare gli interventi degli esponenti dell'associazione di categoria dei miti ricoltori dei sindacati per poi uscire definitivamente dall'aula assieme ad alcuni esponenti delle parti sociali per la coltivazione delle cozze il momento è drammatico o questa categoria vive ma vive nel senso della parola tecnologicamente strutturalmente o togliamoci di me che ce lo dicono però purtroppo stiamo in un momento storico drammatico e occorre che ognuno faccia la sua parte l'auspicio è che attraverso questo incontro di oggi possano essere messe in campo delle attività delle azioni concrete il vice sindaco Fabrizio Manzulli sottolinea l'impegno della giunta Melucci per cercare iniziative e soluzioni efficaci ci sono tante misure in campo in questo momento ma non sono sufficienti bisogna focalizzarsi sul problema e provare a trovare delle soluzioni che siano anche rapide a favore della categoria un argomento su quale torneremo sicuramente nel nostro telegiornale adesso proseguiamo sui temi delicati dell'economia facendo un bilancio sul calo turistico del 2023 sebbene deve essere ancora accertato e quantificato dai dati ufficiali non ha colpito solo le strutture alberghiere ed extra alberghiere ma anche l'indotto come ad esempio il comparto del noleggio delle automobili come ci spiega Pierandrea Fanigliulo dal Salento il calo turistico che ovviamente dovrà essere quantificato dai dati di fine stagione ha riguardato anche il comparto del noleggio auto un'estate quella del 2023 che non solo ha risentito dell'impatto sulla geografia turistica di nuove mete ma anche come nel mese di giugno di un meteo avverso quest'anno il noleggio delle vetture ha subito un brusco calo rispetto all'anno scorso di circa il 30% in quanto la richiesta comunque è stata molto inferiore se poi andiamo ad analizzare tutta la stagione estiva partendo da giugno diciamo che questo mese è stato molto diciamo condizionato dalle avverse condizioni meteorologiche luglio un po' il mercato si è ripreso e ad agosto diciamo abbiamo fatto gli stessi numeri di luglio e quindi è stato un mese tutto sommato negativo in quanto ci dovrebbe essere il boom estivo a diminuire però non sono state solamente le richieste ma come per quanto riguardato i giorni di pernotto nelle strutture alberghiere e extraalberghiere anche i giorni di noleggio delle autovetture i giorni di noleggio sono diminuiti in quanto gli anni passati le vetture venivano prese per circa 7-8 giorni invece da quest'anno arrivavano a massimo 4-5 avrebbero percepito dalla regione Puglia e dall'Unione Europea contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per un totale di 550 mila euro senza però avere i requisiti previsti dai bandi per questo 17 persone sono state denunciate due società segnalate per responsabilità amministrativa all'autorità giudiziaria dai finanzieri di Putignano nel Barese nell'ambito di un'inchiesta antifrode coordinata dalla procura di Bari le accuse a carico degli indagati sono truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche emissioni di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti secondo quanto accertato dagli inquirenti i contributi sarebbero stati indebitamente ottenuti in due modi il primo presentando nella fase istruttoria regione unione europea piani di investimento basati su preventivi dai costi gonfiati il secondo metodo sarebbe consistito subito dopo l'ottenimento dei contributi nel documentare costi fittizi o superiori a quelli realmente sostenuti attraverso l'utilizzo di fatture emesse per operazioni inesistenti i finanzieri al termine delle indagini hanno avviato i procedimenti di revoca e recupero dei finanziamenti e dei contributi indebitamente percepiti con segnalazione del relativo danno erariale alla procura generale della corte dei conti di Bari dunque truffa ai danni della regione Puglia e ai danni dell'unione europea torniamo a potenza perché questa mattina nella sala B del consiglio regionale si è svolta la conferenza stampa per illustrare gli eventi civili e religiosi ma anche l'organizzazione logistica in occasione della tanto attesa festa della Madonna di Vigiano patrona delle genti lucane Francesco Cutro sono stati presentati a potenza gli eventi per la festa della Madonna di Vigiano patrona della Basilicata delle genti lucane che prenderanno il via dal 31 agosto prossimo e andranno avanti fino al 9 settembre è un evento religioso che credo che sia l'evento religioso della regione è importante perché è un simbolo ma trasferisce la cultura di un popolo a tutta la regione non a caso a Vigiano non sono presenti solo gli abitanti del paese ma arrivano da tutte le parti della regione anche da fuori regione i cammini al Sacro Monte di Vigiano sono stati candidati anche a patrimonio dell'UNESCO il Consiglio regionale nel suo ruolo ha dimostrato di credere e di sostenere quella che è la candidatura proprio a patrimonio UNESCO dei cammini al Sacro Monte di Vigiano ed è un passaggio importante voglio ricordare che è stata proprio sottoscritta a firma mia e del Presidente Bardi e questo è un passaggio importante per tutti i lucani perché la fede e la tradizione debbono essere conservate attesi oltre 140.000 tra fedeli turisti soprattutto nella giornata di domenica 3 settembre in occasione della processione che riporterà la statua della Madonna Nera dal santuario alla Chiesa Madre nel centro di Vigiano per la settimana degli eventi è stato stilato un imponente piano di sicurezza anche per facilitare l'arrivo dei pellegrini un piano di sicurezza imponente ci stiamo lavorando davvero tanto e quest'anno ancora di più perché prevediamo dopo la pandemia che appunto ci sono più persone che hanno voglia di festeggiare più persone che hanno voglia di condividere più persone che hanno voglia di stare insieme c'è dietro una bella macchina organizzativa speriamo che va tutto bene ma abbiamo preparato davvero su ogni punto anche sotto il profilo della sicurezza ampliando addirittura quest'anno con una buona notizia tre parcheggi nuovi il sindaco ha infine comunicato che chiederà ad Anas per una questione di sicurezza di riaprire il tratto stradale a Brienza interessato dai cantieri la città di Taranto sarebbe simile a Mogadiscio e per questo motivo è stata scelta dalla produzione internazionale di un film che parla di una giovane perseguitata sono iniziate le riprese nel capologo ionico sono iniziate le riprese pugliesi di Samia coproduzione Italia Germania Belgio diretta da Yasemin Samedereli tratta dal bestseller internazionale Non dirmi che hai paura di Giuseppe Catozella dopo aver girato in Kenya luglio scorso truppe cast si spostano a Taranto dove rimarranno per due settimane è la storia vera di una ragazza perseguitata per aver partecipato alle Olimpiadi senza velo prodotto da Indica con Rai Cinema Bim Produzione Neue Biscope e Tarantula il film è realizzato con il contributo di Apulia Film Fund l'uscita è prevista per il 2024 non a caso in concomitanza con i giochi olimpici di Parigi La storia di una giovane atleta somala che si chiama Samia Yusuf Umar e ovviamente la sua storia è importantissima perché è una giovane ragazza che ce l'ha fatta a uscire da Mogadiscio e ad arrivare alle Olimpiadi in Cina nel 2008 ce l'ha fatta ma alla fine non è finita bene girare a Mogadiscio non è possibile per tutta la storia della Somalia e la situazione politica che c'è lì e quindi Taranto è stata scelta perché ci sono dei posti che possono assomigliare alla Somalia si chiude così questa edizione interregionale del notiziario di Antenna Sul l'informazione proseguirà tra pochissimo in diretta con le news dalle province di Bari della Bat e di Foggia intanto hanno curato la parte tecnica Michele Marchitelli e Sebastiano Buffalo l'appuntamento è tra poco con Ilaria Delvino in diretta da Bari rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sul più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo